Buongiorno e benvenuti, oggi è il 31 luglio e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 alle 7.30 del mattino siamo in diretta e poi ci sono le repliche dunque salutiamo tutti quanti voi cari telespettatori che sempre tantissimi, in tantissimi ci seguite ogni giorno. Allora partiamo dal santo di oggi vediamolo subito con l'aiuto del cartello e della grafica, oggi è un santo famosissimo è Sant'Ignazio di Loyola il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20.35. Il tempo, il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi lui è di 31, avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento, questa è la settimana dei 40 gradi ve lo dico subito, sarà una settimana molto calda, una settimana difficile da questo punto di vista i venti saranno a regime di brezza, oggi il mare è quasi calmo, durante le ore pomeridiane sarà poco mosso per domani, primo di agosto, il mese si apre con una giornata su tutta la riviera adriatica marchigiana con il sole e temperature ancora in aumento, il mare sarà quasi calmo o poco mosso durante le ore centrali tempo stabile, soleggiato con temperature molto calde, 40 gradi, 39-40 gradi per tutta la settimana cominciamo allora adesso con il giornale, il giornale di Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro apre con il Palio dei Braceri, la finalissima che si è disputata ieri a Pesaro finalissima con Suspans perché Tombaccia che aveva tagliato il traguardo è stata tagliata fuori vince infatti l'Arzilla, la contrada prima al traguardo è stata squalificata per una spinta di troppo principio di rissa però che è stato subito sedato ma la fotografia è per la campionessa olimpica di scherma, la Elisa di Francisca che è diventata mamma la felicità condivisa con il compagno Ivan, Fiocco Azzurro per la campionessa dunque e si merita la prima pagina del Corriere Adriatico. Quella interna invece, la pagina di Fano è sull'evento, l'evento di punta che manca un po' un'estate così, un po' sotto tono, niente di che sì, tutto nella norma, il presidente dell'Apoloco Etienne Lucarelli evidenzia un punto debole dell'offerta per l'estate fanese e poi dice la Pandolfaccia fa grandi cose ma non è supportata dal comune. Dunque siamo a metà alta stagione turistica, Luglio ormai sta declinando, scrive il giornale, con un andamento che non si pone tra i più esaltanti in fatto di presenze turistiche mentre si affaccia un agosto ricco comunque di manifestazioni. Non ci sarà infatti un fine settimana privo di iniziative e qui il resto del Carlino fa l'elenco di quelli che sono gli eventi in programma durante queste settimane che ci porteranno anche i turisti, speriamo tanti appunto a fare esperienza di quella che è la nostra offerta turistica. L'offerta turistica di Fano si comincerà con il 3-4 agosto con i quattro cantoni, poi c'è anche in giro per fan, che è un'altra bella manifestazione su cui puntare, poi la famosa festa del mare il 5 e il 6 di agosto. Il carnevale si svolge d'inverno, non si è riuscito a sfruttarlo sul piano economico. Poi i colori della vita che con l'Avis animano la notte, oltre 900 partecipanti alla pista della trave c'era anche Ivan Cottini. E poi da Urbino, Urbino la politica in primo piano con le minoranze sull'Aventino per le ingiurie pesanti di Sgarbi. Sgarbi al centro del caso per le sue intemperanze verbali. Il capogruppo del Partito Democratico, dopo le scuse, in due mesi ha ripreso a insultare praticamente tutti quanti. Dalla Valle del Cesano invece in primo piano la notizia del divieto per i cani che è stato tolto in vari parchi cittadini. La vice sindaco Oradei replica a Pergola Unita, contemperato le esigenze di tutti. Il vice sindaco è Marta Oradei che dice non è vero che l'accesso sia vietato alle carrozzelle dei disabili, l'inibizione solo nei giardini Giovanni Paolo II e Don Bosco, ma è multato un bimbo in bicicletta. E sotto invece la buona notizia di questo 22enne Giovanni Carboni, un giovane di San Costanzo che è una promessa del ciclismo nazionale e che ha vinto il Giro del Veneto in Elite Under 23. E dunque complimenti. Andiamo sull'altra pagina da Senigallia invece uno strip, uno spogliarello all'addio del celibato, un giovane ubriaco finito nei guai sul lungomare è stato multato dalla polizia invece un barista che aveva servito un drink quindi immagino un drink alcolico ad un minorenne, un sedicenne. Sotto invece i furti, furti che continuano senza sosta, doppio furto in casa, ladri in fuga con gioielli anche della carne, un blitz in serie a Corinaldo, i proprietari erano usciti, al rientro invece hanno avuto la brutta sorpresa. Da Falconara invece è l'incidente, guardate quest'auto che è piombata su un albero, tre giovani sono rimasti feriti, sono tre giovani stranieri residenti a Iesi ma la prima pagina, il titolo d'apertura nella cronaca di Falconara è per i conti di Aerdorica che sono finiti ai raggi X. Arrivano, siamo a Pesaro, Pesaro e provincia, arrivano apparecchio e sulla pagina di Fossombrone arrivano apparecchio e tecnico per rinforzare il punto prelievi il comitato ospedale collabora al dono di un tapirulana ma ci sono altre carenze dunque l'ospedale di Fossombrone tra alti e bassi, qualcosina si muove ma non basta nel punto prelievi è entrato, e questa è la buona notizia, in funzione il nuovo contaglobuli ed è arrivato il secondo tecnico di laboratorio. Sotto, sempre sulla pagina di Pesaro e provincia, l'addio, sempre a Fossombrone, alla pediatra Paola Peruzzina aveva solo 61 anni ed è ceduta all'ospice di Fossombrone, una vita la sua dedicata alla cura dei bambini domani ci sarà l'addio a Santa Maria Ausiliatrice, una vita come dicevo dedicata alla sua passione alla cura dei bambini, prima con gli studi in medicina e poi con la specializzazione in pediatria conseguita a pieni voti, insomma il suo studio ogni giorno si riempiva di bambini funerale domani mattina alle 9 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone tornano le lanterne, siamo sempre sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro tornano le lanterne in centro storico, la notte delle candele si è dunque già accesa a San Lorenzo 20.000 fiammelle sul mare, repliche per il live di Samuel e l'evento di Rossini maestri di Candelara stanno preparando una coreografia unica, oggi c'è un incontro tecnico poi invece c'è stata paura per Del Moro, Franco Del Moro, tantissimi lo riconosceranno ex presidente della VL per tre stagioni, ha avuto un incidente, un incidente d'auto mentre stava andando a Trento a vedere l'Italia, si è rotto il polso e qualche costola tanta paura ma insomma l'ex presidente della VL è stato già dimesso, dunque auguri andiamo sull'altra pagina, anzi cambiamo giornale, andiamo sul resto del Carlino tra Ricci e Ceriscioli, cioè tra il sindaco di Pesaro e il presidente della regione Marche che è stato sindaco di Pesaro, quindi ex sindaco di Pesaro, tra Ricci e Ceriscioli rimane la frattura e il sindaco pensa davvero ormai a Roma, la partita sulle candidature alle politiche divide però ancora il partito democratico, questa è la notizia in primo piano sul Carlino di Pesaro, l'analisi politica, anche qua c'è l'addio alla pediatra Paola Peruzzini, dolore a Fossombrone per la scomparsa della dottoressa, aveva 61 anni e poi la cronaca di Fano, un futuro al buio per la trave, per il circolo tennis trave non ha più la corrente, lo ricorderete, dal mese di giugno e dunque il futuro si gioca sul ripristino di questa corrente elettrica che è stata staccata ormai da un paio di mesi per il mancato pagamento delle bollette e se entro pochi giorni l'utenza sarà riattivata la crisi potrebbe anche rientrare, scrive il giornale e dunque il circolo riprendere un po' la sua attività e invece se in caso contrario il comune sarà costretto a intervenire per trovare una soluzione e quindi si sta lavorando, almeno così dicono, si sta lavorando per trovare una soluzione ma pare non essere poi così semplice. Sempre dal resto del Carlino il ristorante La Ginestra diventerà un resort per avere i permessi, ci sono voluti 10 anni, una situazione tutta italiana, investimento di milioni congelato per vari divieti, a breve finirà in consiglio dunque da storico ristorante ad hotel resort a 4 stelle, 37 camere, 3 suite, un centro congressi una spa, un centro benessere, oltre ad una piscina esterna riscaldata. La Ginestra al Furlo cambia pelle, arriverà entro settembre in Consiglio Comunale il progetto esecutivo dopo il via libera della provincia, anche se con diverse prescrizioni. E per il sindaco Pierotti si va verso la valorizzazione turistica di un luogo davvero incantevole, un luogo davvero unico. Ok, andiamo adesso sull'ultima pagina, quella sempre del resto del Carlino di Fano, per parlare dei numeri da record del Fano Jazz che si è concluso, i fanesi si sono riappropriati del festival, dice Adriano Pedini che è il patron, l'ideatore, il fondatore di questo importante festival che continua ad esistere, per fortuna diciamo noi, in una città, ripeto, tra alti e bassi, si è chiuso però ieri sera questo, in trasferta come da tradizione, il festival Fano Jazz Badesi sulla applaudita e affollata performance di uno dei tanti artisti che si sono esibiti in questa venticinquesima edizione. E c'è un'intervista conclusiva appunto a Adriano Pedini. Ok, noi ci fermiamo qui, la nostra rassegna stampa è finita, noi ci rivediamo domani mattina alle 7.30 con i giornali, mentre stasera c'è il telegiornale. Occhio alla notizia, per tutte le vostre segnalazioni avete appena visto il numero di telefono utile per le vostre appunto segnalazioni con Whatsapp. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.